Sì, sì, aspettate che sono impegnato. Sì, sì, aspettate che sono impegnati. 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 Sì, aspettate che è finita. Sì, aspettate che sono impegnati. Vai Luzio! Vai Mauro! Vai Mauro! Vai Mauro! Vai Duri! Vai Cinho! Dai ragazzi dai! Dai Dai! Vai! Vai! Vai Mauro! Vai! Vai Aminara! Vai! Vai Aminara! Vai! Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Vai, guardo! Vai, guardo! Vai, guardo! Vai, guardo! Vai, ragazzi, vai! Vai, Cigno! Vai, guardo! Vai, guardo! Vai, guardo! Vai, guardo! Non ti lasceremo mai Non ti lasceremo mai